Musica Lunedì 9 agosto, buon inizio di settimana e benvenuti al primo appuntamento con la nostra informazione in regia Giovanni Spina. Prima edizione del Ter Giornale che apriamo parlando ancora degli incendi in Basso Molise, ieri un'altra domenica di paura. La situazione è più critica a Campomarino Lido dove le fiamme sviluppate sulla statale 16 hanno immediatamente attecchito a causa anche del vento forte. In azione i vigili del fuoco e la protezione civile. Scene di panico tra i villeggianti ma anche tanta rabbia. Il servizio è di Andrea Nasillo. Il fuoco ha divorato ancora alberi, vegetazione e canneti a Campomarino Lido spingendosi fino alle case. Paura tra la gente, lo scoppio di diverse bombole di gas ha creato il panico. Un'altra domenica di fiamme in Basso Molise. Residenti e turisti rivivono l'incubo di una settimana fa. Sulla statale 16 il fuoco ha imposto il blocco del traffico. Le forze di soccorso hanno lavorato a lungo per mettere in sicurezza il distributore Tamoil. Il costone che collega la zona del Lido con il paese non esiste quasi più. Un dispiegamento notevole di forze dell'ordine, vigili del fuoco, carabinieri, polizia, guardia di finanza, municipale, protezione civile, due canadeiri in azione. Non sono mancati momenti di scoramento tra la gente e anche qualche malore. Sarebbero diversi i danni anche ad alcune abitazioni e ancora una volta all'origine dell'incendio. Pare ci sia la mano dell'uomo, l'azione dolosa. Signora, una seconda domenica di fuoco qui a Campomarino. Direi che è l'inferno e l'inferno è soprattutto, secondo me, non è una cosa accidentale. Se capita due volte è negli stessi denti più puntici. Io mi farei due domande. Cerchiamo di salvaguardare, abbiamo cercato di metterci al sicuro noi e anche il paesaggio perché è una pineta distrutta e questa è un'altra macchia verde che trova distruzione oggi. Siamo costernati. Domani non ci sarà più una Campomarino che conosciamo da vent'anni. Un degrado pazzesco. Abbiamo le pinete centrali che sono una bomba d'orologeria. Rami di piri tagliati lasciati lì a mucchi, tronchi, tutto abbandonato. Lasciano queste canne che per legge dovrebbero rimanere e questo è il risultato. I privati devono tagliare, tenere pulito. Sono anni che paghiamo le tasse e abbiamo un degrado totale. Dopo domenica scorsa che è andato via buona parte della nostra pineta, adesso il centro urbano è stato toccato. Voi siete di qui? Sì, sì, sono residente di qui e vivo qui da anni. La situazione è sempre peggio? Guardate, la gente ha paura. Ha paura dentro casa sua. Innanzitutto c'è stata una solidarietà civica tra di noi. Abbiamo lavato le strade, abbiamo aiutato qualcuno che ha avuto dei malori. Una signora ha avuto un malore vicino a casa mia, l'ho personalmente aiutata. Da cittadina, residente a Campomarino, non è normale che io me ne sono accorta all'ultimo momento dell'incendio, dietro casa mia, tra l'altro le fiamme arrivavano dentro casa mia e nessuno ci è venuto a dire di evacuare la zona. Nessuno. È indecente una cosa del genere. È stata una domenica di grande paura. Grandissima paura. Io ho un bambino piccolo, avevo ospiti a casa e siamo dovuti scappare. Anziani, disabili, siamo dovuti scappare via e nessuno ci ha detto nulla. E nella tarda serata un incendio si è sviluppato anche a Borgo Fantine. Situazione difficile ieri pomeriggio pure a Ururi, dove sono andate a fuoco diverse zone intorno al cimitero. In fiamme anche il centro di raccolta rifiuti e un capannone dove c'è un carrozziere. Un vasto rumo ha interessato anche Monte Cilfone, dove è entrato in azione anche un Canadair. Le fiamme hanno interessato il cantiere del Metanodotto, una via di realizzazione. Si è temuto per Bosco Corundoli, che è in pratica un polmone verde. Adesso cambiamo argomento, ci occupiamo del Covid. Con il bollettino diffuso ieri dall'ASREM, quattro positivi su 54 tamponi refertati. Uno a San Massimo, uno a Termoli, un cittadino francese e uno proveniente dal Lussemburgo. Due i ricoverati a malattie infettive, nessun decesso e nessun guarito. Bene, possiamo rientrare in studio, ci fermiamo con la nostra informazione. Adesso uno sguardo ai quotidiani. Siamo sul giornale del Molise.it. Tutto in evidenza in questa notizia, avete sentito anche nel nostro telegiornale, ancora fuoco a Campomarino, altra domenica di paura, ma anche di polemiche. Restiamo in zona, ombrelloni spinti in acqua dal vento a Campomarino, a Monte Cilfone, Canadair in azione. Le ultime ore da Capracotta si registra questa notizia. La donna scivola in un dirupo, salvata dal 118 e dal soccorso alpino. Intanto, sempre nel centro dell'Altissimo Molise, un positivo. Capracotta, un positivo al tampone rapido. Il sindaco invita a rispettare le regole. Ci spostiamo sul futuro Molise. In primo piano i dati e i contagi da Covid. Quattro positivi e due ricoveri. Ed è il bollettino di ieri. Storiche devozioni dei molisani di una volta. L'approfondimento, chiaramente, cliccando sulla home. Poi si parla del gruppo scout a Gesci di Campobasso, il quattro, quella della chiesa cattedrale, che lasciano in dono alla città una panchina presso la foce. Ieri anche il messaggio del sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, per la giornata del sacrificio del lavoro italiano nel mondo. Quando si parla della strage di Marsinelli, della tragedia di Marsinelli in Belgio. A Campomarino Lido è ancora un inferno di fuoco. È il titolo che apre l'edizione di oggi di primo piano. Un vasto incendio di vampa sul costone. Abitazioni evacuate, chiuse, statale, sedici e ferrovia. In azione due canadeir. Paura per un distributore di benzina. Nel pomeriggio anche una tromba d'aria. Negli stabilimenti volano ombrelloni e lettini. Di spalla, vediamo, notizia che arriva da Ururi. Le fiamme mandano in fumo l'isola ecologica. E una carrozzeria. Più in basso i dati Covid, altri due ricoveri al Cardarelli. La pressione comincia a farsi sentire. Gli ultimi pazienti sono un uomo e una donna stranieri. E arrivano dal comune di Letino. Nel bollettino di ieri, quattro nuovi casi su 54 tamponi refertati. Il tasso schizza al 7,4%. Siamo sempre a centropagina. Nel fine settimana la prova generale per il Green Pass. Tutto è filato liscio. In risa riguarda Campobasso. Mentre c'è un'intervista. Caterina Cerroni alla guida dei giovani Dem. Se di parità di genere parlano solo le donne. Ci sono i puntini di sospensione. Dentro la notizia. Castelpetroso. Lutto cittadino per l'addio a Stefano innamorato. Alle 17 funerali nella chiesa di Guasto. La cronaca da Frosolone. Ruba un'auto e semina il panico tra le vie del paese. 35 anni inseguito e arrestato dai carabinieri. Purtroppo ancora furti a Boiano. Nel fine settimana i lati svaliggiano tre appartamenti. Alessandra Longano oggi firma l'editoriale. L'immagine di una Italia normale ma straordinaria. Ed è un focus sulle Olimpiadi di Tokyo. In alto lo sport. Il Campobasso. Oggi gironi e calendari di Serie C. Magri dice contento di essere tornato in rosso-blu. Nel calcio di eccellenza l'Isermia mette a segno il colpo a effetto. Torna. Bomber panico. Fine la palla a volo. La Energy Time riparte da Maniscalco e ingaggia il forte Parisi. Vaccini, Green Pass ma anche le Olimpiadi di Tokyo. In primo piano oggi sui maggiori quotidiani nazionali. Vediamo il Corriere della Sera che dedica questa grande foto. Jacobs giochi da sogno con 40 medaglie. E c'è Marcel Jacobs che è stato portabandiere per l'Italia. Più in basso vaccino piano per i giovani. Figliuolo parla di corsie preferenziali senza prenotazione. Tanto sale il tasso di positività. La sottosegretaria all'istruzione dice sì al Green Pass, no alle sanzioni pecuniarie contro i presidi nelle ultime ore. Si è parlato anche di questo. Repubblica, meno male lo stesso disegno di pagina del Corriere. In alto una foto. Tokyo, le 40 emozioni che ci hanno fatto segnare. Vedete i nostri atleti medagliati. Poi c'è Landini che lancia un monito a Draghi, il segretario della CGL. Niente sanzioni ai lavoratori. Con l'intervista lui dice serve il Green Pass, ma fabbriche e uffici sono in sicurezza. Inaccettabile punire dipendenti che non hanno la certificazione. Sulla scuola i presidi chiedono assunzioni per i controlli. Da Repubblica, adesso all'apertura della prima della stampa, che ha un titolo di economia, politica economica, l'Unione Europea versa i 25 miliardi all'Italia. Prima tranche del PNRR. Sarà usata anche per il digitale. Mattarella, una spinta importante da Bruxelles. Poi sul Covid i presidi chiedono 8 mila assunti in cambio dei certificati obbligatori. Tanto chiuse due discoteche clandestine. Grande foto anche per la stampa. Grazie ragazzi. All'interno c'è un supplemento, supplemento che è anche all'interno di Repubblica. Il fatto quotidiano. Anche Lampi contro Durigon, il sottosegretario. Conte dice ora deve dimettersi. Durigon viene definito il fascio leghista, politici e società civile. Via il sottosegretario. In alto, sul Covid, tamponi a prezzi calmirati, però non se ne trovano. Intanto negli Stati Uniti dilaga la variante che assume un altro nome, cioè la variante Lambda. Dal fatto al tempo apertura locale del quotidiano romano, nel Lazio vitalizi più ricchi. Regalo di ferragosto agli ex consiglieri della Regione. Via libera del Consiglio alla norma che aumenta gli assegni tagliati appena due anni fa. I politici che hanno due pensioni guadagneranno 500 euro in più al mese. Sì, anche da parte del Movimento 5 Stelle. Il Libero, tre italiani su quattro, dicono basta immigrati. Ed è una grana per il governo, secondo il quotidiano di Sallusti. Sbarcano in centinaia in Sicilia, decine col Covid. Il sondaggio boccia la morgese che è il ministro dell'interno. Delusi pure gli elettori. PD serve una svolta. Siamo adesso sullo quotidiano di Confindustria. Il sole 24 ore. Dote di 2,4 miliardi. La scuola di parte, 80 mila assunzioni. Green pass per i professori. E accordo sicurezza. Su 112 mila posti, già assunti 38 mila insegnanti. Fondo per l'organico Covid e le classi Pollaio. Via la mascherina se gli studenti sono vaccinati. Adesso il mattino, 40 volte, grazie, anche qui, molto spazio dedicato agli azzurri che stanno rientrando da Tokyo. Si chiudono le Olimpiadi, medagliere da record, parla Malagò, presidente del CONI. Ha vinto l'Italia multietnica e integrata. Più in basso il reddito, ed è quello di cittadinanza, si cambia, obbligo, formazione. Lo Stato garantirà il sussidio solo per tre anni. Passiamo dal mattino alla verità. Il Green pass è già un disastro economico. Non solo dà una falsa sicurezza a chi lo usa. I primi tre giorni di debutto del documento sono una mazzata per ristoranti, cinema, parchi, divertimento, in un periodo decisivo per consumi e turismo. Dopo il lockdown, danni anche per la filiera agricola e poi arriva un invito da parte del Codidiano La Verità. Fermatevi, chiaramente, ai nostri decisori. Passiamo, dare uno sguardo all'apertura del secolo d'Italia. Speranza al mare e i gestori delle discoteche lo contestano pure in spiaggia. Manifestazione contro il ministro della Salute che è in vacanza. La Gazzetta dello Sport. I migliori giochi della nostra vita. Indimenticabile Tokyo, l'Italia dei record. Fa festa. Jacobs fulmina Bolt e dice Mi aspettavo un messaggio da lui e ora non devo buttare via i soldi. Gazzuri, almeno un podio al giorno, l'ultimo è il bronzo delle farfalle. L'atletica è da dieci. Pesi, Ganna e company e le arti marziali tra i promossi. In basso c'è lo Sport. Con l'addio di Messi, il campione gli viene da piangere. Poi sul Paris Saint-Germain dice Io non mi volevo muovere. Intanto in casa d'Italia, Inter, c'è la A9 per Dzeko e un piano per Vlahovic. Si studia la maxi offerta. Il carcio giocato, quello d'estate. Pjanic fischiato, più vicino alla Juve con il Barsa e K. La Juve ha perso 3 a 0. Bene, anche questa mattina con la Gazzetta terminiamo l'appuntamento. Il primo con la nostra informazione che torna alle 14 con la seconda edizione del telegiornale. Grazie per averci seguito. Vi auguro una buona giornata. Arrivederci.